domani è una partita che non va sottovalutata proprio per anche le cose che hai detto tu, è una squadra in salute ed è una squadra che la maggior parte dei propri punti le ha fatte contro le prime in classifica, quindi noi ne sappiamo qualcosa, quindi c'è bisogno di grandissima attenzione e di non sottovalutare la partita, di cercare di imporre il proprio gioco, ma grande umiltà e grande rispetto dell'avversario perché ultimamente anche il loro mister ha dimostrato di sapere ingabbiare le grandi di questo campionato, quindi noi dobbiamo far sì che ciò non accada, siamo consapevoli che è una partita difficile, ma siamo anche vogliosi di renderla positiva per noi. Noi siamo tornati da questi tre giorni di vacanza che erano importanti, sono stati importanti, ma siamo tornati a correre forte e con una grandissima concentrazione, non ci interessa solo Carpi e Progresso, non ci interessa Ravenna, quello lo guarderemo al novantesimo, non ci interessa l'affare Pistoiese, siamo concentrati molto sul Progresso perché questo è il nostro obiettivo. Verza purtroppo non sarà dei venti perché ha un problemino, Cortesi lo valuteremo domani, perché è indubbio e diciamo che sale in una discreta condizione, anche se abbiamo anche Arrondini che sta crescendo molto bene, quindi abbiamo una coppia di attaccanti che nella staffetta possono essere determinati.